La Polizia di Stato di Agrigento, in data di ieri, ha eseguito un fermo d'indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica, la DDA di Palermo, a carico di Ogais John, detto anche Rambo, un nigeriano del 92, individuato e catturato presso il cara Sant'Anna dell'isola di Capo Rizzuto. L'uomo è sospettato di far parte di un'associazione di linguele di carattere transnazionale, dedita a commettere più reati contro la persona, in particolare tratta di persone, sequestro di persone, violenza sessuale, omicidio aggravato, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. In particolare, il nigeriano Ogais è stato riconosciuto come uno dei responsabili di tortura e servizie perpetrati in Libia, all'interno della South House di Ali in Libico, dove i migranti venivano privati della libertà personale, prima di intraprendere la traversata in mare per le coste italiane. Ogais è stato individuato come uno dei complici di Acom Sammerich, ganese, tratto in arresto dalla squadra mobile di Agrigento già nello scorso mese di marzo, sempre su ordine della DDA di Palermo, a carico del quale sono state già confermate le accuse da parte delle sue vittime davanti al giudice delle indagini preliminari nel corso di un drammatico incidente probatorio. Le indagini su Ogais, detto anche Rambo, sono state condotte dalla squadra mobile di Agrigento, diretta da Giovanni Minardi e dalla squadra mobile di Crotone, diretta da Nicola Lelario, che ha collaborato nella fase di individuazione e di cattura del soggetto. Entrambi gli uffici investigativi territoriali sono stati coordinati dalla seconda divisione del servizio della centrale operativa di Roma. Di seguito vengono riportate anche alcune parti delle dichiarazioni rese dai migranti, che hanno determinato i pubblici di ministeri, Calogero Ferrara e Giorgio Spiri, della direzione distruttuale antimafia di Palermo, guidata da Francesco Lovoi, ad emettere il provvedimento di fermo a carico di Odaes. Queste le intercettazioni, durante la mia permanenza all'interno di quel ghetto da dove era impossibile uscire, ho sentito che l'uomo che si faceva chiamare Rambo ha ucciso un migrante. So che mio cugino e altri hanno provato a scappare, che sono stati ripresi e ridotti in fin di vita a causa delle sevizie, cui sono stati poi sottoposti. Vi era un altro, un tale Rambo, carceriere della Nigeria, che anche se non mi ha picchiato prevedeva a seviziare altri migranti. Le torture a cui sono stati sottoposti sono innumerevoli. Per esempio, sono stato torturato con i cavi elettrici in tensione. Nell'occasione mi facevano mettere i piedi per terra dove precedentemente avevano versato dell'acqua. Poi provvedevano ad azionare la corrente elettrica per fare scaricare la tensione addosso a me. Subivo anche delle scariche elettriche violentissime. Questo avveniva circa due volte alla settimana. Altre volte mi picchiavano in varie parti del corpo con dei tubi. A volte mi legavano le braccia e poi mi appendeva in aria per picchiarmi ripetutamente, violentemente. Una volta ho avuto modo di vedere che il Rambo, il nigeriano, ha ucciso dopo averlo imbavagliato e torturato a lungo un migrante nigeriano che si trovava con noi. Il fermato è stato associato alla casa circondaliare di Catanziaro a disposizione della competente autorità giudiziaria.